Ho toccato il suo cibo? Sì, eccolo, ho toccato. Contenta? Tutto questo mi ricorda il mio povero babbo. Quando questo capitava a lui, sapete cosa suoleva dirmi? Cosa diceva? Se la sorte che contraria è mancato del successo, non fa più un castellinare e va a piangere sul... Povera carcassa senza vita.